Dieci anni di intenso e professionale lavoro. Dieci anni, chissà, i primi di una lunga serie dedicati alla crescita dei giovani calciatori. Impegno, dedizione, abnegazione in aggiunta ad un sorriso sempre stampato sui volti di dirigenti, tecnici e tesserati. La Soccer Trani ha validi motivi per mostrare orgoglio nella fase conclusiva di un'altra stagione ricca di soddisfazioni. La società è un contenitore, mi piace pensarla in questo modo, di passione, di regole sportive e di innovazione. Il nostro team è fatto di giovani, legati a coloro dove il ragazzo viene posto al centro del progetto sportivo e avendo anche un centro sportivo idoneo che ci permette di svolgere in piena sicurezza con i nostri ragazzi tutte le nostre attività, che è a Capirro, Capirro Sport Village. Quindi siamo contenti e felici di chiudere a breve questa ulteriore stagione calcistica. Il panorama calcistico della Soccer Trani si arricchirà ulteriormente a settembre con la partecipazione al campionato senior di promozione dopo l'acquisizione del titolo sportivo della Vigor Trani. Il resto è tutto confermatissimo da tutte le categorie in ambito giovanile dei primi calci agli allievi al prestigiosissimo marchio di scuola calcio elite riconosciuto dalla FIGC. Anche quest'anno la federazione c'è annovera tra le scuole calcio elite che è il massimo riconoscimento che la federazione riconosce ai settori giovanili che hanno comunque un tot numero di tesserati, hanno tutti i tecnici qualificati e durante l'anno seguiamo degli incontri che la federazione ci organizza per quanto riguarda l'attività. facciamo dei seminari con gli psicologi e anche con nutrizionisti. Il lavoro fatto per bene alla fine paga sempre. Un tesserato della Soccer Trani, Angelo Miola che compirà 14 anni il lunedì prossimo e fra i 75 giovani calciatori di tutto lo stivale, l'unico tra l'altro della BAT e uno dei quattro pugliesi, selezionati per la fase finale del torneo Evolution Program, evento in programma a Coverciano da oggi fino a domenica e riservato agli under 14 inseriti nel progetto di sviluppo territoriale, portato avanti dal settore giovanile e scolastico. Il secondo anno consecutivo possiamo annoverare uno dei nostri tesserati, Angelo Miola, che è stato scelto tra quattro ragazzi nella Puglia a partecipare al torneo nazionale che si svolgerà a Coverciano. Ha fatto parte del centro federale di Ruvo territoriale ed è stato scelto e per noi è grande orgoglio che abbiamo il nostro tesserato che possa partecipare al torneo nazionale della FIGC.